La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina moderna. Una vera e propria rivoluzione nella prevenzione delle malattie, con un impatto senza precedenti sull'aspettativa di vita e sullo sviluppo sociale ed economico di tutto il mondo. I programmi di vaccinazione servono a proteggere la maggior parte della popolazione da una serie di malattie infettive che fino a qualche decennio fa causavano milioni di morti ogni anno. Tra queste la difterite, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la pertosse, la polmonite, la polio, il rotavirus, la rosolia e il tetano. La protezione e la salute di tutti, inclusi i soggetti non vaccinabili, è assicurata dall'immunità di gregge, risultato di un'elevata copertura vaccinale. Sebbene quella globale sia rimasta stabile negli ultimi anni, sono oltre 19 milioni i neonati che ancora non ricevono le vaccinazioni di routine e circa il 60% di questi vive in soli 10 paesi. Angola, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, India, Indonesia, Iraq, Nigeria, Pakistan, Filippine e Ucraina. L'OMS si propone di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi fissati dal Piano Globale per la Vaccinazione. Una copertura vaccinale mondiale del 100%, l'eradicazione della poliomelite, l'introduzione di vaccini e tecnologie di nuova generazione. Il tema vaccinazioni e l'importanza di un sistema di sorveglianza forte e puntuale sono tornati attuali in Europa con tre fenomeni. L'aumento inquietante di casi di morbillo e rosolia riportati dal 2013 ad oggi. L'impatto dei flussi migratori sui sistemi sanitari nazionali. Lo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni. Una controtendenza che rallenta la corsa verso il raggiungimento degli obiettivi del GVAP e apre la porta al ritorno di malattie quasi debellate. L'esigenza di implementare una continua vigilanza richiede l'attuazione di nuove misure e strumenti innovativi. Le malattie prevenibili con la vaccinazione possono essere controllate e eradicate solo attraverso interventi istituzionali che mettano in atto strategie e piani di finanziamento adeguati. Un piano di vaccinazione efficace non può esistere senza un'azione di monitoraggio costante. Il monitoraggio dell'attuazione dei programmi vaccinali è essenziale per migliorare le prestazioni dei sistemi sanitari, rispondere a problemi di accesso e di utilizzo in popolazioni con elevata presenza di bambini non vaccinati, misurare la gestione di risorse finanziarie e logistiche, contenere e prevenire episodi epidemici, proteggere le fasce a rischio. Esistono diversi modi per misurare l'efficacia del piano vaccinale di un Paese e sono metodi basati su dati di carattere amministrativo, censimenti e dati di carattere qualitativo del piano vaccinale. I metodi amministrativi indicano essenzialmente il numero di dosi somministrate rispetto alla popolazione target e sono tuttora la principale fonte di informazione per la sorveglianza vaccinale. Spesso l'elaborazione di dati amministrativi risulta in una sottovalutazione o una sovrastima dell'effettivo quadro nazionale e quindi globale. Sotto recenti accuse sono finite infatti le valutazioni dei piani vaccinali basate su documenti amministrativi e certificazioni della qualità del monitoraggio a causa della loro discutibile validità, attendibilità e trasmissibilità dei dati di copertura. Oggi più che mai sono quindi necessari strumenti di sorveglianza alternativi e a basso costo che permettano di valutare eventuali rischi e formulare strategie sanitarie adeguate. I saggi che misurano la presenza di anticorpi specifici nel nostro corpo forniscono informazioni preziose, soprattutto quando i dati disponibili sono poco attendibili o quando esiste la necessità di implementare piani vaccinali di emergenza. Vaccine Survey propone un prototipo di saggio per rilevare la presenza di anticorpi sviluppati a seguito di una vaccinazione, al fine di valutare il progresso di un programma vaccinale e confermare in maniera sperimentale i dati di copertura attualmente disponibili, generando così una visualizzazione interattiva della risposta immunitaria di una popolazione target. Il saggio immunodiagnostico utilizza micro quantità di sangue e genera profili di reattività contro le principali malattie prevenibili da vaccino, permettendo di monitorare lo stato di immunizzazione di un individuo. I risultati del saggio possono essere lavorati e correlati in modi diversi e tradotti in una mappa che indica le variazioni del rischio di infezione legato ad esempio all'età o al rischio di epidemie ed evidenzia gruppi di individui altamente suscettibili. Il sistema di analisi Vaccine Survey potrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi del GVAP, permettendo l'individuazione di gruppi di soggetti sensibili e la mappatura del rischio di epidemie e quindi l'elaborazione di mirati piani d'azione e di controllo e un migliore utilizzo dei fondi governativi. Il consorzio di ricerca impegnato nel progetto Vaccine Survey è composto da Imperial College London, dalle Università degli Studi di Perugia e la Sapienza di Roma, il Polo di Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia, Genialis, un'azienda slovena specializzata nello sviluppo di algoritmi per l'analisi dei dati, e il Centro Nazionale di Ricerca e Formazione sul Paludismo del Ministero della Sanità del Burkina Faso. Vaccine Survey è un progetto RISE, Research and Innovation Staff Exchange, un modello che promuove il progresso della scienza e dell'innovazione attraverso la condivisione di conoscenze ed idee e l'implementazione di scambi di personale di ricerca tra industria e ambito accademico ed è parte delle azioni Marie Sklodowska-Curie finanziate dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020. Grazie a tutti.